Adesso un po' di mani perché con questo freno io vi saluto e vi lascio in magamaro Adesso un po' di mani perché con questo freno io vi saluto e vi lascio in magamaro Adesso un po' di mani perché con questo freno io vi saluto e vi lascio in magamaro Adesso un po' di mani perché con questo freno io vi saluto e vi lascio in magamaro Adesso un po' di mani perché con questo freno io vi lascio in magamaro Alla chitarra abbiamo il grande Wally Alla chitarra abbiamo un grandissimo musicista Lui è un perfezionista della musica ed è sempre lì a fare in modo che tutto vada bene Alla chitarra abbiamo un giovane che è un mio punto debole perché è anche il mio nipote Alla chitarra Alla chitarra Alla chitarra Alla chitarra Alla voce, io la chiamo anche l'irraggiungibile perché è la perfezione della vocalità, la grande voice, Roberta, con le gambe, i ragazzi che ci hanno riempiato qua questa sera, abbiamo? Gloria Palma e dall'altra parte abbiamo Antonio Momeni. Antonio Momeni. No vana, se ne da qua, non vana, non vana, non vana, non vana, non vana. No vana, non 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 vana. Non va, non va, non va, non va Desarresare Grazie a tutti!